Professor Ferraris, Babbo Natale Gesù adulto, le affrontava la questione più da un punto di vista appunto filosofico e meno scientifico, partendo da una constatazione che non so se possiamo definire ovvia oppure no, c'è che in Italia sembra che si assista a un riemergere del sentimento religioso. È una chiave di lettura corretta, questo è così, accade questo in Italia o è poi soltanto un'impressione? Non lo so, adesso sentimento religioso. Io lì quello che dicevo era essenzialmente questo, veniva tutto, fra l'altro il nocciolo argomentativo di quel libro viene da un grande teorico cattolico del cattolicesimo che era Joseph de Maestre, il quale ha scritto un libro nel 1819 intitolato Del Papa, che era talmente reazionario che il Papa stesso l'ha pregato di ritirarlo perché diventava così. Però diceva una cosa profondamente vera, diceva, mentre i protestanti con i loro ragionamenti arzigogolati muoiono dalla voglia di aver ragione, mentre il cattolico obbedisce per fede, per amore e non chiede altro. E poi precisava una cosa, cattolico non è colui che crede in Dio, cattolico è colui che crede nel Papa e così argomentava. Dio ha lasciato la sua eredità al figlio, il figlio l'ha lasciato al Papa con perfetto ragionamento, e quindi si crede nel Papa. Ciò è letteralmente vero perché se noi osserviamo i susseguirsi anche soltanto degli ultimi Papi, ci rendiamo conto che abbiamo avuto altrettanti cattolicesimi quanti erano i Papi. E ogni Papa presenta un suo cattolicesimo. Allora, il mio argomento era soltanto che avremo molta difficoltà a identificare qualcosa come Dio in base a tutte queste descrizioni che ci vengono date dai così tanti rappresentanti che abbiamo avuto. E anche poi c'è anche un problema, cosa faccio? Cambio di colpo le mie credenze? Cioè, poniamo che ci sia stato uno che sotto il Papa precedente aveva, per esempio, una certa visione dei rapporti fra fede ed etica. Adesso arriva un altro Papa che ha una visione diversa. Dovrà cambiare. È complicato, questo volevo segnalare. Per quanto riguarda invece la fede degli italiani ho i miei dubbi, nel senso che c'è un ritorno, per esempio c'è stato un momento in cui era bon ton politico proclamarsi cattolici, cristiani, tutto quello che vogliamo. Però le chiese sono sempre vuote. La crisi delle vocazioni è sempre tale. Se uno guarda, per esempio, il personale della chiesa cattolica è in larga parte extraeuropeo. Quindi uno deve riflettere, esattamente come nei lavori umili. Quindi uno deve riflettere su questo punto. Cioè, da una parte c'è un bisogno religioso, ma che credo sia presente in tutti gli uomini e che come tale non è un segnale di niente. Certo, è stato più nascosto nell'epoca delle grandi utopie perché nell'epoca delle grandi utopie poteva riversarsi da qualche altra parte. Nel momento in cui non si riversa più da quelle parti, ritorna nel suo luogo tradizionale. Però questo non significa che poi coloro che aspettano un ritorno della fede sarebbero talmente contenti se ritornasse davvero. C'è un passo bellissimo di Cartesio nelle passioni dell'anima quando dice come l'uomo pio che piange ai funerali della moglie ma non sarebbe così contento se risuscitasse. Questo è un po' il sentimento verso la religione. Professor Wolters, il professore Ferrari si diceva ogni papa porta un proprio cattolicesimo, ma allora chi crede, in che cosa crede? Vorrei in questa occasione aggiungere un altro punto. Si parla di Dio, io non so cosa significa Dio. Ognuno che usa questa parola ovviamente ha delle idee diverse. E poi il ritorno della religione di cui si parla anche nel mondo anglofono, Return of Religion. Condivido molto ciò che ha detto Ferraris. Non è che torna la religione tradizionale. Tornano semplicemente le domande che hanno a che fare con ciò che viene chiamato la contingenza dell'uomo. Contingenza significa innanzitutto tutte le situazioni che non possiamo controllare. Dobbiamo morire, ci ammaliamo, amiamo una persona che noi non ama e tutto questo. Questa contingenza spinge gli uomini alla religione in tanti aspetti. ci sono, c'è la religione tradizionale, ci sono religioni moderne, buddismo, tutto questo. E poi tutto questo sono modi degli uomini di aiutarsi stessi nella loro situazione di contingenza umana. chi crede vuol dire ognuno crede perché facciamo sempre, proviamo sempre dare le risposte a queste domande di contingenza e non sono risposte naturalmente che ci possono essere date dalla scienza. La filosofia può aiutare, sì, in questo contesto è una fede ragionevole in un certo senso. non ci sono argomenti scientifici ma argomenti filosofici ragionati.